bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022 in questo nuovo tutorial vi mostrerò come difendere nel modo corretto in football 2022 ovviamente se lo sapete già fare se sapete già difendere non è che scrivete nei commenti tutti sanno difendere eccetera eccetera me l'hanno chiesto 200 300 500 persone tantissimi di voi me l'hanno chiesto e quindi ve lo sto portando questo è un tutorial base per i principianti per chi non sa difendere quindi se vi interessa argomento guardare tutto il video prima di andare avanti in video iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi ragazzi questa parte importantissima circa il 50 per cento delle persone che guardi i miei video non è iscritta al canale se volete supportarmi iscrivetevi attivate la campanella perché veramente il massimo aiuto che potete darmi nella costruzione di questo canale tra l'altro tenendo la campanella attivata come dicevo ricevete tutte le notifiche e siete sicuri di non perdere mai nessun contenuto inoltre voglio ricordarvi che questo video offerto dalla galactic service loro mi aiuta a realizzare tutti i contenuti che trovate qui sul canale quindi vi chiedo il massimo supporto allora ragazzi siamo in campo in una partita online perché con il computer verrebbe troppo facile poi qualcuno di voi direbbe ma con il computer sono buoni tutti quindi partita online e farò i tagli vi farò vedere semplicemente le azioni dove difendo e le commenterò cercherò di spiegarvi più o meno come si difende tenete presente che ogni situazione di difesa non è uguale alla precedente quindi ci vuole anche un po di esperienza ok provo ad affrontarlo semplicemente con la x in questo caso voi vedete anche il joystick in sovraimpressione e sono riuscito a togliere palla molto facilmente altra situazione dove l'avversario attacca intervengo con la x e la corsa quindi l'r2 e riesco a sottrarre il pallone ok situazione dove lui sta attaccando qui senza premere niente solo con la corsa ovviamente perché c'era una palla gestita male dal mio avversario ragazzi calcolate che l'avversario di prima acquittato perché avevo fatto un gol quindi è un altro avversario ma il concetto non cambia continuo a farvi vedere la fase difensiva con quest'altro avversario noi siamo i bianchi e adesso la palla c'era lui io semplicemente con r2x di nuovo che è ovviamente il comando più utilizzato quadrato è anche molto importante come avete visto adesso alla x ho aggiunto il quadrato perché perché ti fa dare la spallata fisica in manuale adesso qua ci ho provato con lukaku però il quadrato è un altro comando molto importante l'avete visto nel joystick in sovraimpressione ovviamente non è facile spiegare quello che faccio mentre lo faccio ma appunto ho messo il joystick in sovraimpressione proprio per mostrarvelo quindi si date ascolta le mie parole ma soprattutto guardate il joystick questo è un anticipo fatto con la x infatti con la x si fanno anche gli anticipi e tentiamo un'altra volta l'anticipo con la x che ci riesce quindi come potete vedere la x è una delle cose fondamentali in questo gioco questo è fallo la cosa importante una delle cose importanti comunque è cercare di non uscire troppo spesso con il difensore se non si è bravi a fare gli anticipi quindi io preferisco selezionare diciamo un mediano e aspettare che lui fa il lancio in questo caso è lo sbaglia di solito tira in porta ed è troppo lontano attenzione comunque a non allontanarvi mai troppo dal giocatore perché altrimenti gli date spazio per tirare fa il tiro sensazionale ed è quasi sempre gol ecco questo è importante anche stare attenti a rientrare con i difensori con cui si esce bisogna tornare indietro e cercare di non uscire con il difensore come avete visto io non sono uscito con il difensore e lui ha fatto il filtrante e il mio difensore era bello posizionato lì in attesa di recuperare il pallone e siamo riusciti anche a innescare un ottimo contropiede che poi sbaglio clamorosamente però vedete anche come si passa dalla fase difensiva con un ottimo posizionamento senza far uscire il difensore a un contropiede molto rapido soprattutto se giocate con tattica contropiede veloce come la mia purtroppo l'avversario è quittato di nuovo sul secondo gol l'avversario con cui stavo giocando prima quindi siamo in un'altra partita questa volta abbiamo la divisa rossa non più quella bianca mi dispiace ragazzi vi faccio i tutorial con più partite ma gli avversari quittano appena gli faccio due gol e quindi sono costretto a fare così ovviamente perché sono tipo amichevoli no? appena si vedono in difficoltà quittano vi faccio vedere qualche altro comando difensivo in quest'altra partita ripeto non siamo più i bianchi ma i rossi ok qui con il raddoppio con R1 e la complicità del marcatore che controlli quindi ogni tanto va usato anche il raddoppio con R1 ragazzi ma non abusatene perché si creano dei buchi in difesa non è come PES 2021 che va usato spesso qui va usato meno qui con la X anche se avevo chiamato l'altro giocatore a raddoppiare poi perdo palla ma la recupero sempre con Puyol sempre con la X ragazzi e l'anticipo qui all'indietro bisogna correre ragazzi e infatti riusciamo a togliergli il pallone lì se uscivi con il difensore era gol sicuro X e correre indietro in questo caso qui con L2 sono riuscito a allungare la gamba L2 serve anche a questo per diciamo recuperare i palloni vacanti i palloni che passano vicino prima lo faceva in automatico adesso non lo fa più bene ragazzi non è stato facile perché gli avversari quittavano molto spesso non è stato facile perché io non giocavo ma ridavo continuamente il pallone ai miei avversari sì ho fatto qualche gol tra l'altro quando li facevo quittavano però ridavo il pallone per farli attaccare giustamente per mostrarvi le azioni difensive vi ho fatto vedere più o meno come si difende ragazzi ovviamente non è uno schema matematico questo dovete capire non è che per forza dovete fare sempre e solo così questo è come difendo io come si difende secondo me nel modo corretto ma ogni situazione a sé io ho potuto farvi vedere le situazioni che mi si sono presentate magari vi si presentano delle altre dove diciamo il tempismo è diverso dove la dinamica è diversa comunque c'era il joystick in sovraimpressione quindi avete visto come si muovono le mani per difendere nella maniera corretta tenete presente che la difesa potrebbe sempre cambiare leggermente perché ci sono tanti aggiornamenti quindi io cercherò di fare quanti più tutorial possibile sulla fase difensiva questo era solo il primo ricapitolando il tasto da utilizzare più spesso e la X va premuta non in continuazione ma nei momenti giusti va spesso accompagnata con l'L2 il tasto per mettere il fisico e il tasto per recuperare i palloni quando passano vicino diciamo ad esempio se vi passa un pallone vicino e premete l'L2 il giocatore cercherà di recuperarlo il quadrato è un altro tasto importante ma non va utilizzato spessissimo serve per la spallata manuale serve per il contrasto di fisico manuale e poi l'R1 ovvero il raddoppio tasto che secondo me va utilizzato il meno possibile perché crea dei buchi in difesa utilizzatelo proprio quando strettamente è necessario quindi mi raccomando il tasto più importante da utilizzare in difesa è la X almeno secondo me fatemi sapere nei commenti se vi piace questo modo di difendere fatemi sapere magari come difendete voi perché da utente a utente può cambiare anche il metodo di utilizzo dei comandi ovviamente i tasti sono sempre gli stessi ma c'è magari l'utente che utilizza più il raddoppio l'utente che utilizza più il quadrato l'utente che fa un'altra cosa io secondo me il modo di difendere corretto è questo fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato utile e se vi è piaciuto io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay bella ragaz! ciao 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 ciao